la lezione. Allora, introduzione, giusto per capire un po' di cosa parliamo. Già nella presentazione abbiamo già usati questi tre termini, cioè copyright, diritto d'autore e proprietà intellettuale. Uno è anche utilizzato all'interno del titolo del nostro seminario, abbiamo scelto di usare copyright, perché copyright è l'addizione, diciamo, un po' più anglofona che incrocia meglio gli hashtag, è più indicizzata e quindi avremmo potuto dire dal diritto d'autore al modello open, però copyright in questo caso era la parola corretta perché indica un certo approccio, un certo modo di gestire il diritto d'autore ed è l'approccio anglo-americano che mette al centro il concetto di copia. Copyright letteralmente vuol dire diritto di fare copia, senza essere degli esperti di lingua inglese ci si arriva allo stesso. Ma non è solo quello, è proprio l'istituto giuridico che è vigente, che è in uso nel mondo anglosassone, quindi gli americani, gli inglesi, gli australiani, i canadesi usano la parola copyright perché identifica quel tipo di modello giuridico. Quindi capite già che non è la traduzione letterale di diritto d'autore, perché diritto d'autore non dice diritto di copia, dice diritto d'autore quello che abbiamo noi, ma è proprio figlio di un modello diverso, di un modello giuridico diverso, perché viene proprio da una storia diversa, dopo ve la faccio, che nel nostro caso prende origine dalla rivoluzione francese, dalle prime leggi repubblicane francesi, che hanno scelto di creare un diritto degli autori, cioè creare una serie di tutele a favore dell'autore, della persona che crea. E dopo apriremo un capitolo interessante perché abbiamo detto con l'incognita dell'AI, perché tre secoli più o meno di storia di questo istituto giuridico che mettono al centro il concetto di autore, arriva una tecnologia che sembra che sia in grado di creare da sola, cioè che sembra un software ad essere l'autore, una macchina ad essere l'autrice. In realtà c'è stata la notizia, non so se l'hai vista, di un cyborg che ha fatto un quadro, una sorta di suo autoritratto, ed è un robot che crea. Cioè, di chi sono i diritti di quella roba lì? Visto che per tre secoli, due secoli e mezzo noi abbiamo creato tutto un apparato giuridico di norme e di principi che stabiliscono che la creatività è umana e tutto nasce da un contributo autoriale umano. E quindi questo è sostanzialmente la fine della nostra lezione, però vi ho già anticipato più o meno in quale... ecco perché ho messo... il nostro titolo all'inizio finiva là, finiva a modello open, poi lui mi dice però avevi detto che parlavi anche di intelligenza artificiale, perché non lo diciamo nel titolo? Abbiamo detto sì, mettiamolo, come incognita però. Incognita perché è un fenomeno talmente nuovo per cui ancora adesso siamo molto cauti nel dire come il diritto lo tratterebbe. Quindi lui ha detto che effettivamente ho fatto un libro che risale all'anno scorso, te lo ricordi che l'abbiamo presentato a giugno dell'anno scorso a Milano, giugno dell'anno scorso per un libro non è vecchio, e invece devo ammettere che è un libro che è già in buona parte da aggiornare, perché è una materia che sta andando ad una velocità, è un argomento che sta andando ad una velocità tale, se tutti gli argomenti legati all'innovazione tecnologica vanno veloci perché ovviamente seguono anche un po' il ciclo della legge di Moore, non so se gliel'hai fatta però dovrebbero più o meno, che c'è un'accelerazione esponenziale per cui il grafico impenna, ma con l'intelligenza artificiale sta sfuggendo di mano, cioè la velocità è veramente sei mesi in sei mesi, ogni sei mesi hai una roba così nuova che è capace di rivoluzionare tutto quello che fino a sei mesi fa avevi detto. Se pensate che il ciclo di, cioè il tempo per sfornare un libro dal punto di vista editoriale sono tre quattro mesi, o volte anche di più, vuol dire che tu esci con un libro che probabilmente è già un po' vecchio, nonostante hai fatto tutto, nonostante tu abbia fatto tutto magari anche con una certa velocità, però proprio per una questione connaturata ai tempi dell'editoria la fregatura è quella. E quindi infatti quel libro che dopo vi faccio vedere stiamo già riflettendo se fare una versione aggiornata. Però finiamo la terza parolina magica, spesso sentirete dire proprietà intellettuale, che anche lì viene più dal modello anglosassone che è intellectual property in inglese, tradotto da noi proprietà intellettuale, che serve a fare un po' un polpettone di tutti questi istituti giuridici in cui ci mettiamo dentro però anche il branding, il marchio, ci mettiamo dentro anche i brevetti, le invenzioni industriali, la tutela del design, la tutela delle campagne pubblicitarie, quindi un polpetto, un calderone abbastanza apio in cui vanno a finire cose che sono molto diverse tra loro in effetti. Copyright e diritto d'autore possiamo usarle quasi come sinonimi, tant'è che noi in una lezione, in un'aula universitaria italiana, in un'università italiana in cui la lezione è svolta in lingua italiana, abbiamo comunque scelto di usare la parola copyright, avremmo forse potuto usare diritto d'autore. Proprietà intellettuale è più ampia e comprende in generale il concetto e anche altri istituti giuridici che qua noi non trattiamo oggi, ma soprattutto fa leva su una metafora che è quella della proprietà, dei beni, diciamo la proprietà classica sui beni materiali, cioè io sono proprietario di questo computer, l'università Bicocca è proprietaria di questi banchi e allo stesso modo io sono proprietario di queste slide, perché le ho fatte io. Probabilmente è una proprietà diversa, cioè non è la stessa cosa di essere proprietario di questo astuccio, perché se io sono proprietario di questo astuccio ho anche il modo di escludere altri dall'utilizzo di questo astuccio, perché lo tengo io nel mio zaino e quindi è un bene materiale, c'è un controllo e c'è una forma di esclusione dall'utilizzo di altre persone che è legata alla sua materialità. Nel momento in cui vado su un'opera intellettuale, posso comunque parlare di proprietà, ma è una proprietà diversa, è una proprietà intellettuale, legata al fatto che io l'ho creata questa opera e quindi secondo l'ordinamento giuridico ho una serie di diritti che mi permettono di controllarne gli utilizzi. Quindi la metafora funziona più o meno così. Alcuni sono molto critici su questa metafora, cioè sul forzare molto l'utilizzo della parola proprietà intellettuale, uno è Richard Stallman che diceva, ma c'è uno scritto di Manzoni stesso, perché si parla addirittura del 1700, prima 1800, che già si iniziava a usare questo termine, che sostengono appunto che sia una forzatura, che la proprietà andrebbe, diciamo, il concetto di proprietà utilizzato secondo il concetto diciamo più diritto romano, quindi più classico, e non forzarlo sui beni immateriali, perché sui beni immateriali più che di proprietà intellettuale si parla di diritti di utilizzo, di controllo, di diritti esclusivi sull'utilizzo e non sulla proprietà del bene in sé. Detto questo, sappiate che spesso li troverete come sinonimi e anche qua forse li useremo come sinonimi, nel senso che già come avete visto su Cooperati diritto d'autore siamo stati abbastanza lassi, abbastanza morbidi. Però ecco, almeno uscite di qua, se siete ad una cena e volete fare un po' quelli forbiti, quelli raffinati, sapete che a livello terminologico c'è dietro tutto un discorso, cioè nonostante un dizionario di inglese ve lo dia come traduzione, cioè voi se cercate su un dizionario inglese generico diritto d'autore vi dà come traduzione copyright, ma all'esame di diritto d'autore se foste a giurisprudenza vi bocciano per una cosa del genere, perché se il professore vi chiede mi parli di diritto d'autore e copiere come concetti e gli rispondete, beh se non la traduzione l'una dell'altra vuol dire che non avete capito nulla di una lezione intera che invece faceva tutta la storia dei due modelli giuridici, che io non vi faccio però vi faccio capire con qualche esempio di cosa si tratta, cioè in cosa consiste questa differenza. Quando nasce il copyright, quindi usiamo una data che è 1710, giusto per darvi una collocazione storica, il suo spirito qual era? Era quello di incentivare la produzione di opere. Cioè perché io do un diritto esclusivo agli autori? Perché attraverso questo metodo di creare un monopolio legale sullo sfruttamento dell'opera, gli autori possono monetizzare la loro creatività, cioè grazie a questo copyright gli autori possono chiedere moneta, fra virgolette, per ciascun utilizzo della loro opera, utilizzo o copia diffusa dell'opera. All'epoca essendo il 1700 si ragionava in ottica di copie diffuse, cioè si stava pian piano arrivando alla produzione industriale di libri, quindi il copyright nasce con la rivoluzione industriale inglese in cui si applica il modello industriale alla produzione letteraria principalmente, perché non c'erano i dischi, non c'erano gli mp3, non c'erano le fotografie, non c'era il software, non c'erano le banche dati, alla fine che cos'era? Erano libri, spartiti musicali, testi teatrali, sculture e quadri. Cioè quindi la creatività nel senso più classico del termine, quella che l'uomo si porta dietro da millenni. Però all'epoca cosa succedeva? Che la creatività si cominciava a capire che colui che aveva la possibilità di fare copie delle opere era anche coltello dalla parte del manico, cioè lo stampatore sarebbe il publisher, sarebbe lo stampatore tecnicamente, noi adesso lo chiameremo editore. Cioè il soggetto imprenditoriale che ha la possibilità di prendere un'opera letteraria e trasformarla in libro, in prodotto commerciale, in una cosa che poi viene replicata in serie. E quindi nel momento in cui io ho comprato il manoscritto dall'autore, ho pagato una volta, che il libro esca in mille copie o in diecimila copie o in cinquantamila copie, all'autore ho dato sempre la solita somma e io invece sto guadagnando un sacco con delle spese sempre minori perché il procedimento industriale funziona così. Una volta che ho fatto le matrici per fare il libro, fare diecimila copie o farne cinquantamila è solo una questione di tempo e di carta, ok? Ma il grosso è il lavoro per impostare la stampa, l'ho fatto. In tutto questo gli autori hanno detto, non ho capito, ma noi siamo quelli scemi delle… no ve la sto semplificando un po' però, cioè in questo gioco noi siamo quelli che abbiamo scritto le opere e quello che guadagna è quell'altro che le stampa, no? Cioè in questo meccanismo qualcosa non torna. E allora fanno pressione sui governi, all'epoca il governo inglese, la regina Anna d'Inghilterra per dire no, non funziona. Noi siamo quelli che abbiamo scritto l'opera, vogliamo una sorta di diritto per controllare questa attività commerciale, questo nuovo forma di mercato che sta nascendo. Però fino a quel momento cosa hanno fatto quindi gli autori? Cioè non ho capito? Raccontata così sembrerebbe che in mancanza del diritto del copyright, gli autori non avessero l'incentivo a creare opere e quindi nessuno creava opere. Eppure noi senza il copyright prima del 1700 abbiamo avuto, ne ho messi tre così importanti, Virgilio, Dante e Shakespeare. Avrei potuto mettere Bernini, avrei potuto mettere Michelangelo se avessimo usato altri esempi scultori o pittorici. Avrei potuto mettere Buck, ok? Quindi alla fine non è che ci è andata poi così male. Senza copyright, anzi, la qualità delle opere era molto elevata. Pochi scrivevano e quel poco che c'era però era di alta qualità. Adesso siamo a un livello esattamente opposto, che ormai non sei nessuno se non hai fatto almeno un libro, perché tanto c'è qualcuno che te lo scrive, c'è il software di intelligenza artificiale che te lo scrive. E quindi, vabbè, siamo in una situazione, ho letto un articolo che dice che siamo in una situazione di sovrabbondanza, cioè ci sono più libri che tempo per leggerli. Cioè la gente, anche quelli di qualità, la gente li compra, li tiene lì sul cassetto, sul comodino e poi alla fine ne compri un altro, perché è arrivato, no, perché ogni anno deve arrivare qualcosa di nuovo, soprattutto se leggete saggistica. Poi vabbè, se leggete narrativa, c'è roba che, come dire, può essere letta anche dopo secoli, però c'è comunque una sovrabbondanza di produzione, per cui a volte non c'è proprio il tempo materiale di leggere, ok? Detto questo, era per farvi riflettere su questo meccanismo dell'incentivo. Cioè, il copier nasce con l'idea di incentivare gli autori a scrivere e a creare opere perché possono finalmente rimunerarsi dalla loro creatività. E allora, prima, prima avevano un altro modello, cioè, perché scrivevano opere? Scrivevano perché c'era un sistema di, che ne so, come si dice, mecenatismo, cioè far parte di una cerchia di intellettuali che venivano in un certo modo retribuiti secondo, come dire, favori, essere a corte del potente di turno, dell'imperatore, essere il precettore dei figli dell'imperatore, oppure essere incaricato come, non so, tacito di fare le cronache delle geste dell'imperatore, di una certa classe politica. Essere nel gioco tra i guelfi e i ghibellini e quindi cercare di fare, di scrivere anche per una questione di visibilità politica. Non lo so, c'erano meccanismi che permettevano agli autori comunque di rimunerarsi più o meno direttamente o indirettamente della loro creatività. Non è poi così raro che siano morti in disgrazia senza avere un riconoscimento della loro creatività se non postumano la morte. Quindi grandi geni che sono morti poveracci, disperati. Succede anche adesso però. Autori che al primo disco, al primo album musicale, al primo film, non guadagnano nulla anche se il film ha molto successo, anche se il disco ha molto successo. Se avete seguito la famosa serie sugli 883, questa roba qua un po' emerge, che loro dal primo disco non è che hanno guadagnato tanto, ma perché così? Perché al primo giro non hai potere contrattuale per poter stringere un po' le redini e dire no, calma, adesso mi dovete pagare. Quindi non è un fenomeno così nuovo, solo che qua siamo nel mondo del copyright. Questi hanno scritto prima e hanno creato prima del copyright. Semplicemente era il diverso modello economico, cioè si creava opere, si creavano opere, sulla base di altri incentivi che non erano l'esclusiva sullo sfruttamento delle opere. Come vi dicevo, nel 1710 la regina Anna cerca di mettere tra virgolette pace sociale all'interno di una lotta che c'era tra gli autori e gli stampatori e quindi dice che no, deve essersi un diritto riconosciuto agli autori, cioè gli autori che sono quelli che fanno il lavoro più importante, cioè la creano l'opera, non possono essere pagati solamente per l'acquisto del manoscritto e poi da lì in poi non possono avere controllo sulle copie che vengono vendute, no. Ci deve essere un'accessione del diritto da parte degli autori e quindi sono loro che hanno in capo il primo, come dire, è su di loro che nasce questo diritto di fare copia. Però guardate come si intitola, cioè questo il copyright act primo della storia 1710 si intitola An Act for Encouragement of Learning. Ok. Quindi un atto per promuovere l'apprendimento, cioè da punto di vista dell'ordinamento giuridico il senso di promuovere, di incentivare questo tipo di tutela sulle opere deve avere una ricaduta sulla collettività, non tanto, cioè non è stato creato questo diritto per avvantaggiare gli autori o gli editori, quella è stata come dire, l'occasione che si è creata. Ma per l'ordinamento giuridico questo diritto dovrebbe portare beneficio a tutta la collettività. Perché? Perché se gli autori sono incettivati a scrivere tramite questo meccanismo economico, sono anche portati a scrivere di più, perché riescono finalmente a vivere dalla loro creatività, a essere remunerati grazie alla loro creatività e quindi questo ricade positivamente su tutti i fruitori di opere creative. Ok? E quindi non opere creative intese solo in senso intrattenimento o estetico, ma opere creative anche didattiche, quindi siamo insomma in un corso come questo, in un dipartimento come questo, no? Ha senso, cioè il diritto d'autore tutela anche manuali, anche oggi è così, ma i saggi, software, piattaforme di apprendimento, video didattici, cose del genere. Quindi non è solo l'arte che viene tutelata, ma è la creatività nel senso più ampio. Mi raccomando, non cadete nell'equivoco, che il diritto d'autore si occupa delle opere d'arte, si occupa della creazione, delle opere creative, che sono anche quelle tecniche, anche quelle didattiche, anche quelle religiose. Ok? Succede poi, dopo quasi tre secoli, siamo dal 1710, arriviamo a quello che abbiamo già detto prima, la rivoluzione digitale. Cioè, cosa porta la rivoluzione digitale? Il venir meno del concetto di copia, nel senso che la copia fisica viene meno nel mondo digitale, perché ci spostiamo in un'ottica di file, di insieme di bit, in cui l'opera viene codificata. Quindi l'opera non è più un libro, una VHS, un CD, un DVD, ma è un file che viene diffuso senza un supporto specifico. Io posso avere i brani musicali sul mio cellulare, su una chiavetta, su una memoria, sul lettore dell'automobile e sul computer. Sempre quei concetto di poter fare copie e poter controllare le copie. Insomma, noi che siamo un po' più anzianotti, non so se tu lo facevi. Io quando andavo in vacanza in Inghilterra da ragazzino andavo a cercare i bootleg dei Queen e delle Zeppelin, perché c'erano delle versioni diverse rispetto a quelle che c'erano in Italia. Perché le distribuivano solo là? Che se la racconti adesso, no, i ragazzi a vostra età sembrano la sega mentale. Diciamo, tanto lo trovi in qualche modo quel DVD. Eh no! Cioè, c'era un mercato del disco di un certo tipo, del vinile, perché erano delle edizioni che si trovavano solo là, perché volevi quella copia lì che aveva quelle caratteristiche lì. Adesso fa ridere. Come fa ridere raccontare che quando volevi un brano musicale mettevi il microfono davanti alla tv. Cosa che probabilmente io e il professor mangiatore abbiamo fatto per voi follie totale. Però all'epoca non c'era Netflix o Spotify per ascoltarti i brani, quindi se c'era una canzone che ti piaceva o ti andavi a comprare il disco o la cassetta audio, perché all'epoca c'erano le audiocassette, oppure aspettavi... Adesso stanno tornando, sì, esatto. No, oppure aspettavi che qualcuno la passasse in radio o sulla tv o a MTV all'epoca e te la registravi con una qualità che era una roba terrificante, però all'epoca ti accontentavi quella roba lì. Però cosa voleva dire? Voleva dire che la coppia era palesemente brutta e di qualità più bassa rispetto all'originale e quindi questo dava una sorta di garanzia a chi produceva la musica, i libri, ok? E adesso hai voglia a dire che c'è una qualità minore. È un file, se un file viene duplicato, cos'è? È un clone, non è una copia. C'è lo stesso elenco di bit spostato in un'altra cartella, spostato in un altro supporto. E quindi vuol dire che tutti abbiamo avuto quella posizione che avevano i publisher nel 1710, cioè abbiamo la macchina che ci permette di fare le copie. Questa roba qui è stata molto rivoluzionaria. Come rivoluzionare l'aspetto dello spazio? Cioè, questa è una foto che gira molto sui social. Sono quattro moni che spostano un hard disk, hard drive, una memoria, da 5 mega, eh? 5 mega, non 5 giga, 5 mega. 5 mega su un camion e sono in quattro a tirarla su. 5 mega adesso che cos'è? Un floppy cos'era? Ecco, già il floppy non se lo ricordano, che era una cosa che era grosso, cos'era? 15x15, un dischetto quadrato, una roba così. Esatto, infatti lui è morto per assurgere, no, c'è questa metafora, è trasceso in forma di icona, cioè di tastino per salvare. Però ecco, guardate il paragone. Quattro moni che spostano una roba che è grossa come l'armadio di casa mia, contro una cosa che sta sul mio dito mignolo, mignolo davvero, che è un tera. Adesso ci sono anche quelle da due, stessa dimensione. Cioè due tera vuol dire tutta la discografia dalla classica al jazz, al rock contenuti in questa roba qua. Ed è successo in 15, 20, 20, 25 anni. Quando io andavo in Inghilterra a fare ste robe avevo 18, 19 anni. Quindi era il 97, 98, cioè che erano secoli fa. Però, sta roba qui, ecco, guardate, la legge di Moore è quella roba lì, eh. La legge di Moore è 128 mega, 128 giga nel giro di nove anni, stesso supporto, cioè è l'impennata e lì si ferma un tera l'immagine del 2019. Adesso si potrebbe aggiungerne un pezzo con le due tera, ma fra poco andremo anche proprio su un'altra unità di misura. Altra cosa, convergenza tecnologica. Cioè, prima per ascoltare e fruire di musica, software, videogiochi, avevi ognuno il suo supporto e ognuno il suo aggeggio, il suo dispositivo. Altra cosa che a ragazzi della vostra età può essere, può sembrare preistorica, ma, ripeto, non è che c'è da andare dietro sui nostri nonni, basta appunto, gente della mia età, dell'età del professor, mangiatori e noi ci siamo passati quella roba lì. Cioè, avevi per ogni tipo di uso un aggeggio e i suoi supporti, con tutti i problemi di conservazione dell'informazione. Nel senso che adesso se tu hai delle audiocassette, soprattutto il problema è sui VHS, che hai dei filmini, dei video di te a scuola e magari ti spiace perderli, perché sono dei bei ricordi, ma non hai più l'aggeggio per leggerli e non li vendono neanche più, oppure devi ordinarli, farli arrivare. E infatti c'è stato un periodo in cui era raffiorito un po' il mercato di quelli che te li convertivano, agenzie che tu gli mandavi il VHS e ti convertivano, perché avevano i macchinari ancora, i lettori, i video registratori, per salvarti in MP4, in un file, il filmino che tu hai registrato all'asilo, nel 88, ok? E adesso cos'è, cosa dice questa immagine? Everything in this picture is now in your pocket, no? Quindi l'altro pezzo dell'evoluzione digitale è questa roba qua, cioè avere in tasca un aggeggio che costa zero, nel senso che voi questo lo comprereste lo stesso, anche se uno non lo usa per fruire di musica, questo ormai è diventato una sorta di appendice, no? Di protesi per cui l'uomo non si sente più sicuro, non esci di casa se non hai il cellulare perché se succede qualcosa come faccio? E quindi dico che ha un costo zero perché non è che lo paghi di più o di meno se ha una funzione di lettura, cioè te lo danno così, punto. Quindi lo compri comunque perché è una forma, è diventata una sorta di tuo compagno di vita. Poi una delle sue principali funzioni è quella di violare il copyright, nel senso è una macchina potentissima per violare il copyright perché fa copie, diffonde copie su tutti i social, no? Chi ha Android ha un tastino che si chiama condividi esternamente. Cosa vuol dire condividi esternamente? Che quel contenuto che tu hai preso già probabilmente violando i termini d'uso perché non potevi scaricarla, quell'immagine non solo te la scarica ma te la mette in un secondo senza neanche non percepisci questo passaggio ma lui ha fatto una copia temporanea e la butta su tutti i canali che tu vuoi, sul tuo canale Instagram, sul tuo TikTok, su Facebook se ce l'hai e via dicendo, su X, su Twitter e via dicendo. E questa è una palese violazione del copyright che si fa con un click. Per fare quella roba lì ai tempi dovevi sbatterti e sudare e soprattutto lo facevi male nel senso che usciva una roba che era una ciofeca, che si capiva lontano un chilometro che era una coppia. Qua non capisci più qual è la copia e qual è l'originale perché è un semplice, è un clone di quel file, è una coppia temporanea che viene fatta dal server a un dispositivo che tu hai in tasca e che ribadisco ha un costo zero nel senso che ok questo costa 300 euro ma lo compri comunque non puoi farne a meno e quindi hai in tasca con te un aggesio che ti permette di comunicare col mondo ma anche di violare il copyright molto bene. Quindi diciamo per focalizzare queste tre fasi, io le ho chiamate tre crisi del diritto d'autore, sono la prima grande crisi è stata quella appunto della rivoluzione digitale, cioè il fatto che si è passati da un mondo di copie fisiche a un mondo di copie digitali che in realtà come abbiamo detto non sono neanche davvero copie ma sono cloni e quindi cosa vuol dire? che le copie diventano facilmente archiviabili e distribuibili, l'esempio del terabyte su un dito sull'unghia di un dito, cioè ci sta tutto quello che vuoi, non hai più problemi di spazio, cioè non ci serve più l'omone che ti sposta l'hard disk col camion, poi copie facilmente riproducibili con massima fidabilità essendo dei file digitali a meno che per sfiga il file sia corrotto, succede, allora se il file è corrotto non lo vedi, cioè non lo apri proprio, quello è l'unico vantaggio dell'analogico, cioè l'analogico se il segnale era disturbato, il cartone animato su Tele7 Gold lo vedevi lo stesso se volevi vedere l'uomo tigre o Kenny il guerriero, su una tv sfigata lo vedevi lo stesso, lo vedi con le righe che saltavano ma lo vedevi lo stesso, adesso se tu accendi un canale del digitale terrestre e la tua antenna quel giorno lì prende male perché c'è pioggia, non vedi niente, perché? Perché non arrivano i beat sufficienti per convertire il segnale, questo è tipico del mondo digitale, però ecco penso che queste cose loro in teoria le sapere. Bisogna gestire nuove modalità di fruttura delle opere, certo perché non è più un aggeggio per ogni tipo di opera ma si va verso una convergenza tecnologica, tant'è che anche adesso, perché le sale cinematografiche sono in crisi? Perché adesso il cinema te lo guardi a casa, c'hai il televisore 55 pollici strafigo sul tuo divano, cioè oggettivamente una volta invece andavi al cinema perché? Perché vedevi la roba sul grande, si diceva, il grande schermo, adesso il grande schermo ce l'hai a casa, anzi è più bello quasi perché con quelli OLED, 4 Super 4KK, iDefinition, certo, però il risultato è appunto che non c'è più un luogo in cui normalmente si va a vedere, cioè non c'è più il cinema come luogo d'elezione per vedere un film e questo sta ancora portando degli adattamenti, il mercato deve ancora un attimo capire da che parte girarsi, perché un po' hanno pensato che tanto adesso sostituiremo tutto con le piattaforme tipo Netflix, adesso stanno già un po' tornando indietro perché hanno capito che a un certo punto è meglio comunque che ci sia una fase intermedia con la sala cinematografica, perché è tutto ovviamente un discorso di monetizzazione e di vendita di biglietti, però capite che è stata una rivoluzione che ha richiesto un po' di riflessioni e che non è ancora finita. Questa è l'altra fase che è arrivata poco dopo in realtà ed è abbastanza rovescio della stessa medaglia, cioè se al passaggio in rivoluzione digitale noi aggiungiamo anche la connessione continua e costante, l'essere sempre connesso alla rete, questo mix digitale più connesso alla rete è devastante per il diritto d'autore, quello che dicevo prima, avere un aggeggio in tasca che è una potentissima macchina di computer, e sono sempre connesso alla rete, con una rete che è a banda larga, perché gli smartphone esistono dal 2004, 2005, gli anni lì, però poi quando abbiamo avuto il 3G, il 4G, lì è stata la rivoluzione, perché davvero ti sei accorto che con questa aggeggio capo devi fare più o meno tutte le cose che facevi prima con il computer, che nei 10 anni precedenti avevi fatto col computer, anzi adesso devo dire che io quando sono giù in Sardegna, la connessione cellulare mi prende meglio, cioè mi va più performante, mi va più veloce rispetto a quella fissa, quindi capite in che fase siamo, quindi di fatto tutti hanno tra le mani la tecnologia per fare copie e diffondere copie e l'interesse ad acquisire copie diminuisce, ecco, altro effetto collaterale, cioè visto che siamo sempre connessi alla rete, perché io mi dovrei riempire la memoria di film e di video, scusate di audio e file video, chi se ne frega, tanto ce l'ho sempre lì, la rete ce l'ho sempre, anche la rete costa zero, cioè una volta, fino a qualche anno fa c'erano ancora i pacchetti con i giga, adesso oggettivamente in tutti gli abbonamenti abbiamo quasi giga illimitati, oppure 150 giga, cioè 150 giga è quasi come se fossero illimitati, Iliad ti dà 100 giga, 150, quindi il problema della banda non esiste più, però ecco il risultato è che non abbiamo più le copie, quelli vecchi come noi scaricavano, cioè la fase dopo il mettere il microfono davanti alla tv è stata scaricarsi file mp4, i video, i film di notte, perché di notte? Perché scaricare un film ci metteva 8 ore, 10 ore, tu accendevi il computer alla sera prima di andare a dormire, lo lasciavi andare a scaricare e il giorno dopo ti trovi il file scaricato su emule o su winmx che erano i classici software di file sharing si chiamano, fate ancora? No perché pare che stia tornando in auge anche quello, cioè visto che la gente adesso si è scocciata di avere 4 mila, beh allora il file sharing in sé è legale, nel senso che se io lo uso per scaricare le foto del mare tra un computer che ho in ufficio e un computer che ho a casa, perché no? Il problema è che ovviamente veniva usato per violare il copyright, cioè gente che condivideva file, che condivide perché non è che sia finito il fenomeno, che condivide file con dentro opere protette dal diritto d'autore, dal copyright, punto. Salvo poi trovare dentro anche cose che non erano proprio quelle che ti aspettavi, ecco, erano diverse però. Però ecco quella roba lì non ha più molto senso perché tanto quando ho bisogno di un film mi collego e lo scarico nel momento, no? Cioè lasciare il computer era sceso la notte prima e non ha più senso adesso. La terza rivoluzione, la terza crisi più che rivoluzione è quella che stiamo vivendo e che abbiamo già introdotto e che è degli ultimi due anni, quindi io ho messo oggi 2024, ma potremmo dire 2022-2024. Cioè arrivano i sistemi di intelligenza artificiale generativa, cioè non è che arrivano in realtà c'erano già, si diffondono, iniziano ad essere molto facilmente utilizzabili, quindi iniziano a parlare la nostra lingua in un modo tale per cui davvero l'interazione è a portata di tutti e iniziano a fare delle cose davvero difficilmente distinguibili a quelle fatte in altri modi. Cioè un'immagine come quella che abbiamo usato noi per la locandina. Fatta così, tu non sai se l'ha fatta un grafico usando un composer, un software di grafica, lo capisci da cosa? No, visto che... Bravo, dalla faccia sciolta, dalle lettere fatte male, però non sai se potrebbe essere un grafico che ha voluto fare una cosa per emulare l'effetto di intelligenza artificiale. Però anni fa, qualche anno fa, sta cosa per farla per forza avere delle competenze grafiche di un certo tipo. Adesso lui ha messo un prompt che era veramente, me l'ha detto ieri, ma quattro, tre, due righe. Simone Riprandi che fa lezioni all'università con un pubblico di un certo tipo, con un aula, punto. E anche lì sta roba è rivoluzionaria o no? Cioè prima dovevi avere un grafico, dovevi conoscere un certo tipo di software, avere un po' di competenze anche sull'estetica, sulla composizione dell'immagine. Adesso ti fanno delle cose che statisticamente sono, cioè diciamo la cosa che più probabilmente un essere umano farebbe a quella richiesta. Quindi emulano la creatività umana, cioè cercano di avvicinarsi statisticamente a quello che un essere umano farebbe dietro lo stesso tipo di richiesta. Dopo ve lo spiego meglio. Eh, però questa cosa qui è devastante. Cioè se già la rivoluzione digitale e quella dell'era dell'accesso sono state toste per il diritto d'autore, questa è devastante. Cioè perché questa va a minare non solo il concetto di copia, che è uno dei fondamenti, dei pilastri del copyright, perché se no non si chiamerebbe copyright. Ma qua va a minare, va a colpire il concetto di creatività. Cioè se la creatività è così facilmente emulabile, non so se esiste questa parola, dalla macchina, cioè se la macchina è così ormai in grado di emulare la creatività umana, possiamo ancora parlare di un diritto d'autore che è solo dell'essere umano e oppure perde senso, perde valore, oppure va rivisto? Perché appunto il diritto d'autore, così come lo chiamiamo noi italiani, francesi, è il diritto dell'autore, della persona che scrive, della persona che crea. La macchina non è una persona che crea e soprattutto in quanto macchina non può avere diritti, non può essere titolare di diritti. E allora bisogna interrogarsi su chi è che ha messo in moto questo processo creativo, cioè chi è che stava dietro la macchina. Perché comunque, benché siano molto autonomi e abbiano un ampio margine di autonomia queste macchine, non si svegliano la mattina da sole e creano opere. Ci vuole qualcuno che gli dia l'input, qualcuno che gli metta dentro quelle quattro paroline magiche e qualcuno soprattutto che controlla il risultato che ne esce. E quindi comunque per adesso siamo in una fase in cui l'essere umano ha ancora un ruolo fondamentale. Però vedete che è sempre più marginale. Prego. Sì. Come quella. come quella in che senso dovresti farti pagare i diritti che intendi allora arriviamo forse ti stai un po' diciamo imbottigliando se l'hai creata tu sei tu che puoi chiedere i diritti non è che tu devi pagare ah beh certo quella è un'altra cosa il diritto d'immagine non era previsto nella lezione di oggi però tra i vari diritti dopo vediamo una slide con la classificazione dei diritti tra i vari diritti previsti ci sono anche i diritti delle persone ritratte quindi se tu utilizzi l'immagine di una persona solitamente avviene con personaggi famosi cioè i testimonial che si fanno fotografare per fare la pubblicità il Yannick Sinner che si fa fare la foto con la nuova racchetta da tennis o la nuova scarpa della Nike lui sta vendendo la sua immagine cioè si fa pagare non perché ha creato un'opera perché l'opera non l'ha creata lui l'opera l'ha creata il fotografo e l'agenzia pubblicitaria che sta facendo il cartellone lui però si mette in posa e la pubblicità va forte proprio perché lui è famoso e mette la sua faccia in quel caso si devi pagare i diritti si chiamano diritti d'immagine questi che pesano in questo caso molto di più dei diritti d'autore questo è un esempio in cui il diritto d'autore che sarebbe quello del fotografo e del grafico pubblicitario che mette insieme i pezzi costano molto meno dei diritti d'immagine perché Sinner si fa pagare 300.000 euro per prestare la sua immagine il fotografo e il grafico ti costano 20.000 10.000 ok? prego ho sparato delle cifre però le proporzioni potrebbero essere queste sì vabbè lì un'altra cosa Gian Travolta aveva usato aveva dei loghi e quindi lì siamo sul mondo del brand e oggi non ne parliamo se no non ce la facciamo già siamo già oltre allora questo in realtà ve l'ho un po' già detta cioè quando si parla di diritto d'autore bisogna ragionare in due ottiche con due punti di vista cioè il punto di vista di colui che è interessato a tutelare i diritti esempio che ha fatto lui cioè io creo l'opera quindi ho dei diritti sulla parte creativa mia però sono stato anche utilizzatore dell'opera dell'immagine di qualcun altro quindi quello è un esempio che già casca bene e quindi devi sempre tenere in considerazione queste due esigenze questi due punti di vista cioè colui che crea ma anche colui che utilizza l'opera e che vuole sapere con quale libertà può utilizzarla lui mi ha chiesto ma io devo pagare sì risposta perché perché in quel caso sei utilizzatore dell'opera di qualcun altro in questo caso non dell'opera ma della mia immagine dell'immagine della persona che è ritratta però questa slide io la utilizzo per farvi riflettere sul fatto che quasi mai sei nettamente di qua o nettamente di là soprattutto in quel mondo di oggi cioè l'esempio che abbiamo fatto prima dovete fare la locandina per un evento ho una parte di grafica mia che quindi sono titolare del diritto perché ho creato io la veste grafica della locandina però poi le immagini centrali le vado a prendere su un database di immagini su un pixabay e allora lì pixabay mi dice cosa posso fare cosa non posso fare perché io in quel caso sono utilizzatore dell'opera un po' nel ok ci sono le licenze di fianco e non ti dico quanta gente viene da me con ovviamente la frittata già fatta perché dall'avvocato mai andare prima mi raccomando andare quando già è scoppiato il casino e poi si lamentano perché ah ma dobbiamo pagare troppo eh sì adesso il casino l'hai già fatto adesso devo cercare di metterci una pezza però vengono e dicono ma io l'ho presa su pixabay c'era scritto che potevo usarla mi faccia vedere bene il link poi vai a leggere c'era scritto che potevi usarla a scopo personale ad esempio questi l'hanno presa e l'hanno messa in copertina un libro un grafico questo è un esempio vero cliente che è venuto da me casa editrice che dice ma io ho fatto delle copertine di libri le ha fatte il grafico abbiamo l'abbonamento e quindi c'è qualcosa che non va mi faccia vedere l'abbonamento l'abbonamento era un abbonamento intestato non all'azienda non alla casa editrice ma intestato al grafico il quale era un collaboratore tipo cocco pro tipo addirittura partita iva esterno e quell'abbonamento lì era un abbonamento personal un abbonamento da studente tipo di quelli a uso personale a uso didattico c'aveva dei limiti e quindi dico caspita siete una casa editrice vi siete fidati così delle parole dovevate verificare e quindi giustamente il titolare della fotografia originaria o pixabay stesso adesso non mi ricordo se era pixabay o qualche altro repository hanno fatto causa perché è stata violata la licenza cioè la licenza aveva dei limiti non sono stati rispettati punto quindi questo così funziona però ecco noi tutti gli esempi che faremo da qua in poi perché adesso intervino la parte un po' più giuridica cerchiamo di farle facendo un po' un passo di qua di là per dare un'ottica completa perché io non so poi da che parti finirete cioè quando faccio i corsi alle biblioteche normalmente dico un bibliotecario sta un po' più di là cioè il bibliotecario perché è più di là perché per la sua mansione cosa fa il bibliotecario raccoglie opere di altri le raccoglie le classifica e le archivia e le mette a disposizione però vedete che il bibliotecario poi non è solo uno che fa non si ferma a quello ma organizza l'evento organizza la serata di letture no al sito web della biblioteca ha una banca dati della biblioteca che crea lui cioè che crea la biblioteca con le opere archiviate dagli altri da altre fonti quindi ti sposti necessariamente di qua anche se come vocazione se come figura professionale saresti più sul lato blu quindi io sono un po' di qua invece se io scrivo libri faccio lezioni faccio contenuti didattici quindi ho spesso un interesse a sapere considerare il diritto dal punto di vista della tutela della mia creatività anche il titolo che abbiamo dato rispecchia questo blu e rosso arancione e blu tutelare i contenuti digitali e gestire i relativi diritti quindi tutelare lato arancione gestire i relativi diritti è un po' arancione e un po' blu perché gestisci i diritti e ti chiedi anche quali diritti entrano in gioco se ci sono altri diciamo pezzi di creatività che arrivano da fuori che non sono creazioni tue altro schema che io utilizzo sempre nelle mie slide è questo che funge un po' da mappa concettuale di tutta la lezione di tutti i miei corsi poi non riusciamo a fare tutto ovviamente però vedremo esattamente faremo questo giro partiamo da in alto a sinistra e finiamo di là in basso a destra quindi vediamo qual è la regola generale vediamo come funziona il copyright vediamo che per fortuna il copyright non è eterno a un certo punto scade e quindi a un certo punto l'opera diventa senza copyright si dice di pubblico dominio ma anche quando l'opera non è ancora caduto di pubblico dominio quindi quando siamo nella fase intermedia cioè quando l'opera è ancora tutelata e c'è gente che la vuole utilizzare ci sono dei dei casi di diciamo eccezione a questa regola generale della tutela che possono essere stabiliti dalla legge oppure stabiliti dalle licenze esempio che aveva già fatto il professore con questi depositori che vi danno delle libertà però sono squadre sempre delle libertà condizionate delle libertà limitate perché sono delle licenze d'uso perché se fosse un liberi tutti saremmo qua sarebbe comunque una sorta di pubblico dominio tu l'hai mai vista la do what the fuck you want license do what the fuck you want license cioè è una licenza è una licenza goliardica della che dice fai quel cazzo che vuoi sostanzialmente cioè è un modo per dire rilascio questa solitamente si usa per per pezzi di codice pacchetti software magari librerie cioè opere che non hanno dietro chissà quale creatività che hanno una vocazione molto funzionale e l'informatico che le ha realizzate dice guarda lo rilascio libero fate quel cacchio che volete e c'è questa licenza che in inglese do what the fuck you want to license una cosa del genere vabbè i principi